Ultime ore in zona arancione per la città di Ribera dove le restrizioni sono rimaste in vigore per 19 giorni. La prima ordinanza del Presidente Musumeci era scattata il 30 dicembre e poi era arrivata la proroga. È stato un periodo difficile, ha dichiarato il Sindaco Matteo Ruvolo nel corso della registrazione della trasmissione L'Ospite. È stata veramente complicata la gestione perché si è verificato che probabilmente nel periodo festivo, con l'occasione degli incontri tra amici, tra familiari, questa onnata della variante Omicron così massicciamente diffusiva ha fatto sì che i contagi aumentassero nell'arco di una settimana. Ricordo che dal 22 dicembre, in cui i casi erano non più di 60, si è passati a 180-200 casi. Da lì la fiammata è arrivata fino a 660 casi. Nonostante, proprio perché mi mantenevo in contatto continuo con l'USCA, con il Dipartimento di Prevenzione, avevo anticipato la chiusura delle scuole di tre giorni prima delle vacanze natalizie, cioè a partire dal 19, 20 e 21 già le scuole a Ribera erano chiuse, proprio perché avevo intuito che andavamo incontro a una diffusione veramente esponenziale del virus. Diciamo che Ribera è partito un po' prima rispetto agli altri comuni, adesso il trend è in discesa, si registrano ad oggi dati ufficiali intorno a 310-330 casi positivi, dai 660 a cui eravamo arrivati la settimana scorsa, mentre negli altri comuni della provincia di Agrigento questa impennata è arrivata ora. Il Sindaco Ruvolo si è adeguato subito alle nuove disposizioni del Presidente della Regione, disponendo già da stamattina il ritorno alla didattica in presenza per tutti gli studenti. Il caos scuola si è creato perché c'era prima la possibilità, era data a facoltà ai sindaci che si trovassero in zona arancione, di poter emettere ordinanze di chiusura con didattica a distanza, cosa che a Ribera è stata fatta. Dopodiché i contrasti con la normativa nazionale, fino ad arrivare alle sentenze dei TAR e alle note prefettizze che invitano i sindaci ad adeguarsi, ha fatto sì che si rientri perché la volontà e l'indirizzo politico dato dal Governo nazionale è quello di ripartire con le scuole. Bisogna fare in modo che nelle scuole si rispettino tutte le misure di prevenzione, il distanziamento, si eviti di far assembrare ragazzi, si faccia utilizzare la mascherina, sarà faticoso per i più piccoli soprattutto, ma è necessario che si rispettino le norme, che si rispettino le scuole si rispettino le scuole si rispettino le scuole.